Bene ragazzi io sono Martex, bentornati su una nuovissima sfida di Fornet, la seconda di Doctor Doom che dice di visitare un trono gigante come Doctor Doom punto di riferimento corso commercio, quindi est della mappa ragazzi andiamo a zoomare, vedete questo piccolo monte qui? e soprattutto questa macchiolina verde? dobbiamo recarci proprio lì, esatto il pin è corretto, si riesce già a vedere qualcosina eccolo, eccolo, eccolo è proprio lui il mega trono vediamo se conta la missione ma è carinissimo raga ma che bello che è tutte queste sfide raga mi ricordano quelle vecchie ma davvero sono molto simili sfida super breve, io spero di esservi stato d'aiuto se così fosse mi raccomando lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici iscrivetevi al canale, ci becchiamo nelle prossime video guide che riguarderanno tutti questi personaggi del pass battaglia a tra pochissime come al saluto un bel SIA BRIDAS a tra pochissime come al saluto un bel a tra pochissime come al saluto un bel